Buongiorno, siamo qui per descrivere la recentissima convenzione fatta tra l'Istituto dei beni culturali della Regione Emilia-Romagna e il Club dei borghi più belli d'Italia, che è un'emanazione ANCI dei comuni italiani. Questa convenzione ha come obiettivo quello di valorizzare il patrimonio culturale di questi piccoli comuni, in particolare i musei civici locali, attraverso il contributo che l'Ibici può dare dal punto di vista tecnico ma anche economico-finanziario alla certificazione in musei di qualità. Ovviamente questi musei di qualità sono un marchio che può essere speso da borghi più belli d'Italia, l'associazione che ha una valenza praticamente turistica, per vendere un prodotto più qualificato in Italia e all'estero. All'interno della convenzione c'è anche l'idea e il progetto di certificare dei percorsi di charme strettamente legati al territorio, al paesaggio e quindi in quasi tutti i casi anche a questi piccoli musei civici e anche un'altra funzione, in rapporto però con l'Università di Bologna, funzionale a verificare la vulnerabilità sismica del patrimonio culturale, in particolare degli edifici, ma può essere gli organismi del piccolo bordo, o anche di opere specifiche all'interno dello stesso e trattare tecnicamente con argomentazioni funzionali a risolvere eventuali problemi che si dovessero venire a creare in caso di un sisma violento. Grazie 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 Grazie